Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Amici di Maria De Filippi, Panico in studio, l'incredibile notizia lascia i concorrenti senza parole, eliminazione a sorpresa i ragazzi Maria De Filippi.L'ultima stagione di Amici volge ormai alle sue fasi finali ed i telespettatori sono più ansiosi che mai di scoprire chi sarà a trionfare in questa nuova edizione dell'ormai famosissimo talent show targato Maria De Filippi Ad essere estremamente carichi ed emozionati sono anche gli stessi partecipanti, arrivati ormai al serale e pronti a combattere fino all'ultimo per provare ad aggiudicarsi un posto sul podio finale del talent show Ed infatti, la vita nella ormai storica casetto in cui vivono i partecipanti di Amici è quanto mai frenetica ed impegnativa per i concorrenti rimasti in gare che, sia nella danza che nel canto sono ormai sempre più impegnati ad allenarsi e a fare prove per dare il massimo nelle sfide serali e cercare di ingraziarsi la giuria ed il pubblico di telespettatori Tuttavia anche la stanchezza inizia a farsi sentire. Come l'appassionato pubblico di telespettatori dello show di Canale 5 saprà di certo, i ragazzi partecipanti allo show possono trascorrere come vogliono il tempo in cassetta ma hanno l'assoluto obbligo di portare a termine il lavoro ed i compiti a loro assegnati dai coach I ragazzi ultimamente sembrano invece aver preso sotto gamba questi impegni e nelle ultime puntate si è notato un netto calo di impegno da parte di alcuni dei protagonisti di questa edizione del talent show della De Filippi Questo calo di impegno non ha potuto che scatenare le ere dei coach ed in particolare di Rudy Zerbi e della maestra Celentano che hanno voluto prendere un drastico provvedimento Amici, eliminazione a sorpresa.I due coach hanno infatti indetto una sfida che sarebbe terminata con una eliminazione punitiva A farne le spese sono stati LDA, Calma, Aisha, Critical per il canto e Nunzio, Leonardo e Christian per la danza Forti e disperate sono state le proteste di tutti i ragazzi, tra tutti soprattutto quelle di LDA il quale ha sottolineato il suo impegno costante e la necessità di avere alcuni momenti di riposo Ma a nulla sono valse le scuse e le argomentazioni fornite dai ragazzi e la sfida si è svolta come imposto dai coach Rudy Zerbi e Celentano.Alla fine della sfida i coach si sono riuniti con i ragazzi quali hanno continuato a protestare e a definire estremamente ingiusta questa sfida ad eliminazione Le proteste dei ragazzi si sono però placate quando Zerbi e la Celentano hanno comunicato di voler dare una seconda possibilità agli allievi e di aver deciso di non eliminare nessuno Scampato pericolo per gli allievi di amici, che hanno promesso ai coach maggiore impegno e sono tornati a prepararsi per le sfide serali tanto attese Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video